Buongiorno a tutti, sono Rosario Vallone e svolgo la mia attività come responsabile dei fisioterapisti presso il centro protesi di Vigorso di Budrio. Oggi presenterò la brochure informativa con indicazione per autotrattamento riabitativo. La redazione è stata possibile grazie al contributo di tutti i colleghi fisioterapisti del centro protesi in questo periodo di Covid-19 in alternanza lavoro e smart working. Lo strumento illustra la modalità di autotrattamento domiciliare per assistiti che hanno già svolto il programma riabilitativo in struttura a causa di un'inabilità temporanea assoluta o in regime ricovero presso i nostri centri. I disturbi muscoloscheletrici convolgono tre lavoratori su cinque e rappresentano le tecnopatie più diffuse e comuni in Europa. Il mal di schiena rappresenta il 30%, addirittura nei paesi industrializzati viene definito il male del secolo con una percentuale che va dal 75 al 90%. Nei paesi in via di sviluppo l'incidenza è molto minore, si parla di 7-18% per ovvi motivi. L'80% dei dolori lombari non sono addirittura attribuibili a patologie specifiche del rachide ma sono dovute a posture o movimenti scorretti, quindi posture statiche ripetitive, postazioni lavorative non idonee, curvi in avanti o sempre mantenuta la postura in stazione retta, movimentazione manuale di carichi di lavoro fisicamente impegnative. Passiamo allo stress. Lo stress rappresenta il 28%, è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzione di natura fisica, psicologica, sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere a richieste o alle aspettative riposte in loro e che possono avere addirittura un'incidenza anche superiore dei danni meccanici. Durante questa emergenza Covid l'ambito sanitario sarà sicuramente maggiormente rappresentato come stress da lavoro correlato per motivi cogenti. I dolori a arti inferiori rappresentano il 17%. Se si va a analizzare il report di professione NUP-ISTAT che raccoglie le denunce di infortuni in Italia, distinte in professione, ogni attività lavorativa è classificata con un codice NUP che permette ulteriore analisi, la produttività, la caratteristica per regione e la raccolta di dati relativi a ogni settore. Il grado in questo caso, il grado di interessamento, vediamo che il 40% sono lussazione, distorsione o distrazione, il 30% sono contusione, per fortuna il 15% sono fratture, il sede di lesione, la mano che è l'organo più esposto è il 13%, la caviglia è il 12%, il ginocchio è il 9%. Ma perché è così importante prevenire disturbi muscoli scheletrici? È sicuramente importante perché hanno un impatto prima sulla sfera sociale e quindi sulla qualità della vita. addirittura si possono avere presenze contemporanee di disturbi muscoli scheletrici associati a disturbi psicologici, la sfera economica, quindi l'assenza di lavoro, rischio, crinocità di malattia professionale. Possiamo raccogliere quattro aspetti che influenzano la presentazione dei disturbi muscolari, fattori fisici, fattori organizzativi, tipologie del lavoro e fattori personali. I fattori fisici, movimentazione ripetuta del gesto lavorativo, movimentazione manuale di carico, braino, spinta, incidono sulle strutture articolari come la caviglia, il ginocchio, fino alla colonna vertebrale, con interessamento dei dischi interverterbali, tutti gli elementi osteomuscolari sono impegnati. Come fattori fisici la postura prolungata da seduto, come accade in questo momento di smart working, per mancanza di postazione addirittura idonea al lavoro e idonea nella propria abitazione, addirittura l'assenza di sedi ergonomiche, con schienale inclinabile fino a 110 gradi non permette una seduta dinamica. Come movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di sollevamento, di trasporto di carico, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere e tirare, portare o spostare un carico che in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavora e comporta rischi di patologie di sovraccarico biomeccanico, in particolare nel tratto dorso-lombare. Vediamo l'esempio, in questo esempio abbiamo riportato una movimentazione manuale di carico di 50 kg con una postura corretta che incide sul carico, sulle vertebre, le 3 e le 4, su 150 kg. Una postura non corretta, quindi una movimentazione manuale con postura scorretta, addirittura incide su 750 kg. Se pensiamo che, secondo i studi, i nostri dischi fino a 40 anni sono in grado di supportare pressioni di 800 kg, mentre dopo i 40 anni, andando a decresciti, i nostri dischi al massimo riescono a sostenere un carico di 450 kg. L'esempio è sollevare 10 kg, che sono 5 bottiglie di 2 litri d'acqua, con una tecnica sbagliata, il carico sul nostro disco è di 350 kg, in modo corretto è di 227 kg, quindi l'importanza della formazione nella movimentazione manuale di carico. Fattori organizzativi, tempistiche inappropriate, bassa autonomia, mancanza di adattamento agli ambienti di lavoro, consono allo svolgimento dell'attività e incidono sul rischio di presentare un disturbo muscolo-scheletrico. Qui il decreto legislativo 81 del 2008 definisce il sistema di gestione del lavoro in sicurezza che deve essere redatto in ogni luogo di lavoro e quindi compito del datore lavoro assieme al medico competente, al responsabile della sicurezza e anche all'inserimento del responsabile dei lavoratori per definire il piano di sicurezza dell'azienda. Back school e esperienza in azienda. La formazione dei lavoratori abbiamo detto è indispensabile, infatti l'articolo 37,2 del decreto legislativo 81 del 2008 definisce l'obbligo dell'azienda a formare i lavoratori nella movimentazione manuale di carico. Infatti nasce un progetto pilota con la sovrendendenza sanitaria centrale, direzione centrale prevenzione, direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione nel 2017 che vengono individuate quattro aziende in tutto il territorio nazionale, due in Emilia Romagna, l'azienda Ima e l'azienda 3F Filippi e due aziende in Campania, la Rummo e la Davino. Vengono formati 120 lavoratori, 30 per ogni azienda su movimentazione manuale dei carichi e l'adattamento e la formazione sulle 8 posture e posture corrette da mantenere. In Unione Europea è il settore maggiormente coinvolto nell'ambito manufatturiero, poi il settore del commercio, l'ingrosso, le costruzioni, sanità, trasporto e magazzinaggio. Il genere famminile rappresenta un quarto rispetto al totale degli infortuni denunciati, l'età maggiormente a rischio e la fascia d'età dai 45 ai 54 anni in media in Europa. Lo svolgimento dell'attività lavorativa ha un effetto su tutti i livelli del sistema, quindi la manifestazione del disturbo muscoloscheletrico rappresenta la manifestazione più impattante dal punto di vista della qualità della vita del lavoratore, ma c'è anche un impatto anche sull'aumento della frequenza cardiaca, sull'aumento della frequenza respiratoria, aumento di consumo di ossigeno, aumento di temperatura corporea. Fondamentalmente l'introduzione di elementi che permette una diminuzione dell'impegno fisico del lavoratore, come esempio è importante la corretta postazione di lavoro, ausili e li utilizzano anche di esso scheletro, eccetera. Fattori individuali, personali, storia clinica individuale, fattori individuali di rischio, idoneità fisica a svolgere il compito in questione, tenendo conto che la forza fisica è differenza in funzione del genere e dell'età, la fragilità del lavoratore. La Back School Scuola. L'obiettivo del programma Back School Scuola Studenti e il metodo Toso è la formazione dell'alunno, che sarà poi il lavoratore del domani, con acquisizione di competenze e di abilità che siano fonte di modificazione dei propri comportamenti inerenti chiaramente all'ergonomia scolastica. In particolare il programma Back School Studenti si prefigge di effettuare la prevenzione al fine di ridurre l'incidenza del mal di schiena e dei disturbi muscoscheletrici nei bambini tramite una corretta formazione all'uso dello zenetto scolastico e della postura corretta nel banco della scuola e in tutte le attività di vita quotidiana. Un infortunio sul lavoro può dare origine a cosa? A un evento mortale, a un evento con inabilità permanente, a un evento con inabilità temporanea. L'evento con inabilità temporanea, la presa in carico viene fatta da una rete linea, una rete capillare di ambulatori FKT e grazie anche alle strutture riabilitative a centro protese con le sue filiare e il CRM di Volterra hanno la presa in carico. Gli obiettivi sono il recupero funzionale, quindi articolare e muscolare, la rieducazione al gesto lavorativo, l'autotrattamento, la prevenzione della recidiva attraverso un'ergonomia per evitare la cronicizzazione e con conseguente peggioramento della qualità di vita del lavoratore. L'ottica dell'empowerment del paziente, ed educarlo ai comportamenti corretti in modo di attuali nella vita quotidiana. L'introduzione di principi di ergonomia agisce trasversalmente sui vari aspetti, assicurare salute e sicurezza, evitando la cronicizzazione di disturbi muscoloscheletrici, miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, la qualità e la quantità della produzione attraverso l'atteggiamento e l'attenzione del gesto lavorativo, prevenire gli infortune e le assenze del lavoro e ridurre i costi associati agli infortuni e agli incidenti nel luogo di lavoro, attraverso l'introduzione di strumenti lavorativi ad hoc e di supporto. Questa è la raccolta di semplici, passiamo direttamente alla presentazione del nostro puscolo riabilitativo. Questa raccolta di semplici esercizi riabilitativi nasce per integrare il percorso effettuato presso le strutture di riabilitazione destinate ai nostri pazienti. Per questo motivo la scelta degli esercizi tra gli innumerevoli e rilevabili, di letteratura è stata effettuata tenendo conto della possibilità di eseguire in un contesto domestico con l'ausilio di strumenti di facile riperibilità. Gli esercizi oltre a poter essere utilizzati in attesa o contemporaneamente alla ripresa dell'attività lavorativa, dopo aver concluso il percorso col fisioterapista, possono essere anche utili per la prevenzione di complicanze recidive, aiutando il paziente a migliorare e a mantenere una condizione fisica adeguata dell'attività svolta ed evitare anche la cronicizzazione. Le immagini esemplificative a supporto sono le stesse presente nell'opuscolo. La maggior parte della difficoltà sta nel mantenere una condizione muscolare corretta, evitare i compensi muscolari, mantenere un'intensità nella pratica degli esercizi con tempi e modalità corrette. La presenza dei fisioterapisti è garanzia di corretta valutazione e di modulazione dell'intensità della pratica svolta. Adesso facciamo una carrellata di alcuni esempi di esercizi che sono presenti, quindi come la flessione laterale, quindi sono divisi per distretti, distretto cervicale, quindi abbiamo rotazione del collo, estensione del collo e dell'arranchio cervicale, esercizi a pendola di codima, quindi per quanto riguarda gli arti inferiori. Le proposte sono fatte sempre usando sempre strumenti facili di reperibilità, come abbiamo detto, in un ambiente domestico, come in questo caso il bastone o in questo caso l'asciugamani. Esercizi di stretching, andiamo avanti, adduttore, flessione isometrica, esercizi ancora sempre per l'arto superiore, rinforzo intraestratatore, stretching del flessore. Andiamo adesso, fermiamoci un attimo, quando eseguire gli esercizi, il programma specifico, quali esercizi eseguire, quando eseguirle e quando serie ripetere, deve essere sempre impostato sulla base di un'attenta valutazione di un fisioterapista o di un medico specialista. Si consiglia sempre di procedere con cautela, rispettando il dolore, cercando di guadagnare articolità in maniera progressiva, poiché una riabilitazione troppo accelerata può comportare un allungamento dei tempi di recupero. Importante anche questo esercizio, la presa di coscienza di respirazione diaframmatica. Molte volte respiriamo utilizzando la respirazione toracica. Andiamo avanti all'esercizio, esercizio quadrupedica, la proposta è sempre volta a una serie di posture per minimizzare i convenzi muscolari messi in atto involontariamente dall'assistito. Esercizi del ponte con una gamba singola, esercizi di ponte su due gambe, esercizio allungamento del muscolo piramidale. Per quanto riguarda gli arti inferiori, esercizi di autotrattamento per anche ginocchio. Iniziare gradualmente ogni esercizio senza sforzi eccessivi. Se si prova dolore a causa degli esercizi svolti, interrompere immediatamente. Se si è portatori di artrobrotesi o mezzo di sintesi, fare molta attenzione, non superare gli angoli di movimenti concessi dall'ortopedico. Respirare correttamente durante l'esecuzione di qualsiasi esercizio. Rispettare un tempo di pausa tra un esercizio e l'altro e tra ogni serie. Aumentare il numero delle serie, la difficoltà e la durata degli esercizi progressivamente. Cercare di essere regolare nella pratica eseguendo esercizi tutti i giorni. Andiamo avanti con esercizi di rotazione delle anche, posizione a rana. Questo esercizio è molto utile perché serve anche ad aiutare l'estensione dell'arte inferiori necessaria per compiere il passo. Il rinforzo esercizio del rinforzo del quadricipite. Lo squat è anche importante, aiuta a rinforzare i muscoli dell'arte inferiore, ma anche a migliorare la postura e coordinazione. Altra indicazione che possiamo dare. La pratica degli esercizi non sostituisce la presa in carico di un fisioterapista, ma può essere molto utile nella fase finale del trattamento, il mantenimento della funzionalità recupera dopo l'infortunio. È necessario svolgere esercizi in sicurezza e con cautele, in un ambiente calmo e confortevole e rilassante. È importante mantenere un respiro regolare e non affaticarsi. Osservare sempre le indicazioni del medico specialista, non effettuare mai gli esercizi in una condizione infiammatoria o acuta. La comparsa di dolore è un segnale che indica che dobbiamo fermarci e consultare medico e fisioterapista. Durante lo svolgimento degli esercizi proposti è necessario dare il tempo al corpo di recuperare tra una sessione e l'altra. La sequenza proposta può essere ripetuta anche due volte al giorno. Un altro esercizio può essere l'uso della lattina frida al posto della pallina, in fase di relax, un detenzionamento dei tessuti coinvolti durante la pratica. L'ultimo esercizio è l'appoggio monopodalico per aiutare un esercizio di proprio eccettività. Concludo dicendo che chi ha collaborato sono tutti i nominativi dei colleghi fisioterapisti del centro protesi. Grazie per l'attenzione.